Abbiamo fatto colazione e ora facciamo un giro per tutto il paese. Abbiamo fatto un giro per tutto il paese. Qui c'è una galleria d'arte di Josephine Boni, una caramica. Abbiamo fatto un giro per tutto il paese. 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 Pubblicità. Abbiamo fatto un giro per tutto il paese. Abbiamo fatto un giro per tutto il paese. Abbiamo fatto un giro per tutto il paese. Per questi e altri disegni seguitemi su Instagram, Facebook e YouTube. Roberto Taccini. Abbiamo fatto un giro per tutto il paese. Abbiamo fatto un giro per tutto il paese. Abbiamo fatto un giro per tutto il paese. Grazie a tutti. E' bello. Grazie a tutti. No, ho uno con la maestria di Goldrake, che è un po' corto. No, ho uno con la maestria di Goldrake. No, ho uno con la maestria. No, ho uno con la maestria di Goldrake. No, ho uno con la maestria di Goldrake. No, ho uno con la maestria. No, ho uno con la maestria di Goldrake. No, ho uno con la maestria di Goldrake. Iscrivetevi. No, ho uno con la maestria.